La bacchetta di mandrake, il mio ordine è immediato, fai tornare i bei tempi del passato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma chi sei tu? Sei una dea, la madre, il mare profondo, la casa. Sei Eva, la prima donna apparsa sulla terra. Quante domande ti vorrei fare ancora, Anita. Per esempio, che c'avessi un goccettino di grappa? Ma va a fa' culo, Marcellino. Non mi fa ridere, mi si staccano i baffi. Però te lo do, ho bisogno anche io. Però sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.